Vi presentiamo il nuovo WinBag Connect in attesa di brevetto che offre ancora più possibilità dell'originale. La grande flessibilità d'uso e la sorprendente capacità di sollevamento di 135 kg rimangono le stesse. E così anche le applicazioni. Come l'installazione delle finestre. Regola e livella la finestra con facilità, gonfiando o sgonfiando i WinBag, finché non è perfettamente allineata. Installazione di mobili per la cucina. Il modo più preciso per ottenere un posizionamento sempre a livello e senza lasciare alcun segno. Installazione di porte. Posiziona un WinBag sotto la porta e inizia a pompare. Allinea perfettamente i cardini senza dover usare una mano in più. Regolare l'altezza degli elettrodomestici senza inutili complicazioni. WinBag Connect ti offre ora ancora più possibilità. Come il posizionamento e il livellamento delle unità di condizionamento dell'aria. Regolazione delle sezioni di finestre pesanti in edifici industriali. Regolazione facile e agevole dei piani di lavoro. Regolazione dei mobili da cucina quando hai bisogno di una mano in più. Livellamento individuale e delicato delle porte in vetro. WinBag. Non solo per i professionisti. Per il professionista che c'è in noi.